La situazione di trasporti Carignano, l'intervento del Comune è stato tempestivo? Sì, colgo l'occasione per fare chiarezza, perché ovviamente siamo in campagna elettorale, viene tutto strumentalizzato e c'è chi ci gioca anche sopra. Allora è vero che AMI aveva messo un avviso che avrebbe ridotto le corse per una ragione di sicurezza per gli autisti che incontrarono alcune problematiche nel fare manovra. Appena io ho visto questo avviso mi sono subito adoperato, ci siamo sentiti con la direzione di AMI, ho scritto il giorno stesso una lettera dove mi assumevo a nome dell'amministrazione degli impegni per intervenire e creare situazioni migliori per evitare disagio agli autisti che dovevano far manovra su nel centro di Carignano. Tant'è che in queste ore ci sono anche dei sopralluoghi e quindi il giorno stesso AMI ha revocato quell'avviso sostenendo che le corse rimanevano normalmente. Così è, quindi voglio tranquillizzare tutti i residenti di Carignano, non c'è nessuna modifica, tutto rimane come prima per cui penso di non prestarsi alle strumentalizzazioni che ci sono. La cosa è avvenuta nell'arco di 24 ore e ci stiamo già adoperando. Voglio questa occasione proprio per tranquillizzare e dare un'informazione certa a tutti quanti.